solo la morte arrivata a 90 anni d'età una veneranda età è riuscito a dividerlo a separarlo dalla sua squadra del cuore si chiamava Ernie Crouch 90 anni d'età ripeto tifoso dell'arsenal da sempre seguiva il famoso club slonese sia quando giocava in casa sia quando giocava in trasferta meritandosi anche il titolo di tifoso dell'anno sabato scorso però mentre si stava ricando all'amirade stadium per seguire la disfida tra proprio l'arsenal e sunderland l'anziano è stato investito da un autobus all'attesa di fish rail central a londra tutti i tifosi dei gunners lo conoscevano bene lo rispettavano e già nelle prime ore successiva la tragedia nei social network si sono moltiplicati gli omaggi alla sua memoria molto probabile quindi che anche nella prossima gara casalinga dell'arsenal il club deciderà di titolargli un doveoso un obbligatorio applauso in quella che era considerata come la sua seconda casa grazie cari utenti il video termina qua una storia incredibile quella di Ernie Crouch di cui vi ho parlato poc'anzi grazie